Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e il vostro X-Metacloss405 e come sempre oggi siamo in compagnia di Binet97 Sempre su Pokémon MMO Coop Perfetto, allora se vi ricordate c'eravamo la città qua a Lavender Town La città più epica di sempre Perché? Dovevamo andare alla palestra, cioè a Zoropoli giusto? Sì, sì, inoltre io e Binet fuori parte abbiamo fatto un po' di allenamento, lui ha anche catturato un Pokémon nuovo Oh, Nyx, che ve l'avevo già detto E una cosa, andiamo prima a battere i gheri nella torre Pokémon, così c'è... Non so se ci smerda con i livelli No, va che va, è basso Ok, io comunque ho allenato Venonoth fino al 21 e il mio Zubat finalmente si è evoluto in Crobat Che cazzo dico Crobat, Golbat? No, dove stai andando? Perfetto Ecco, qui tagliamo perché è una... è una lotta... Vedo te che vaghi per il piano E tagliamo perché è una sfida abbastanza lunga Perché avrà tipo quattro Pokémon se mi smacca Sì, contro Gheri mica tagliamo Eh, ma guarda che è un po' lunghina Vabbè dai, cioè ci può stare E va... cinque ne ha, porca puttana No, che come non detto Vabbè io riprendo quando mette in campo... Oh... oh... Ivisaur Ok, stoppato di nuovo Dai, Chorbilion No, che coglione! Adesso ho ripreso Tu che volevi registrare la tuta poi? No, che coglione! Fino adesso, ad esempio, che stavo lottando con Cadabra Stavo stoppando e stavo parlando come un coglione No, adesso ho ripreso, Lel No, no Vabbè, non fai niente, dai Signori, vabbè, nulla Vi siete persi soltanto Cadabra e Piggio E appunto Quindi nulla di serio Eh, però FaiFight, porca... porca merda Non cazzo di poco, non fisse Continua a cambiare sto figlio di puttana Allora mettiamo Hypno che... Cioè, boh... è quello che mi stavo parlando Il culo da tutti e da tutto Vai, Niglet Diglet, grande Niglet Niglet, perché Niglet? Nig Nig È vero Grande Niglet Falli fuori, falli fuori tutti Ok, adesso mi mando anche un po'... Eh, cazzo, come glielo butto giù, Isa Abbiamo battuto Gary Come glielo butto giù, Ivysaur Verda Ah, è vero che tu... Ah, è vero che tu hai guardato Sì, sì, ma fa lo stronzo, mi fa stannifero, parassise Il pezzo di merda Eh, bare, io ho finito, vado a... Vai a curare te i Pokemon Sì, l'aspetto giù Mi fa pure un critical lead Con Frocio Vai con attacco da ala, dai, Golbat, mandalo capo Che belle le medium Ok, metà vita, bello Che beve era il tema Era bellissimo il tema musicale della torre No, bro, non morire Mi fa Sleepover solo, sto bastardo Ma chi è che hai te? Sei contro chi sei, scusa? Contro Iisaur Iisaur Ah, ma non hai un Pokemon che lo butta giù? Sì, sì, c'ho Golbat con attacco da ala Però se mi fa sonnifero ogni... ...fattuto secondo Eh, io arrivo subito Nicklet guadagna 367 punti di esperienza Wow Ok, Mudslip che mossa era? La mossa di merda Cosa? Mudslip Fango sberla Fango sberla Sì, fra Yes I'm rambling He said Cazzo, Geridos, non ricordavo, ho visto pure Geridos Perché non ce l'ha, non ce l'ha avuto Geridos Perché non ce l'ha avuto con te? E io, oh, io, va che io ho avuto Growlite ed Execute Non ce l'ha avuto Geridos Che culo Ma perché, scusa, ma Perché dipende dalla scelta degli starter Oh, non lo so E quindi scusa, se tu scegli Bulbasaur cosa ti capita? Eh, non lo so, mi sa No, non lo so Boh Io non l'ho mai visto, non l'ho mai preso, cioè Saddivi, saura Saddbulbasaur Dai, ci sa Una, 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 una maratona fino a qua per vedere che... Oh, no, no, un monotype Monotype Bulbasaur per vedere che fa come un giorno, qua Len, ok, io l'ho buttato giù, succhia gay Grande monotype, monotype 24 Come la monotype che sto facendo io su Smeraldo Di Dark Meditate Meditate, no, grande bomber, non mi serve Aspè, ma tu stai battendo i medium, le medium No, ma io sono uscito, sto allenando un attimo Ok, gli allenatori vicini, vicini Perfetto, ma quindi adesso andiamo direttamente verso la prossima palestra oppure facciamo la torre No, perforce, perforce Perforce, perforce, ok Non si può fare la torre... Cioè, non si può fare la torre Pokémon without spettroson Without spettroson Capis, capisci a me? Ho capisci, capisci Quindi, non si può fare Non potremmo andarci Bella, adesso curano i Pokémon Dai, pisello di sasso, fai fuori sto cazzo di volpino Dai Pisello di sasso Bravissimo Dove sei tu? Rockcock Rockcock, grandissimo Io sono fuori Sono fuori Mr. Big Chance No, in inglese è chance, non è chance Aspè, no Sì, perché in francese è chance Oh, bello Dove stai andando? Ah, io sono andato a colarmi in forno Comunque Ok, ragazzi, possiamo procedere verso Azzurropoli Ok, io li stupo Boh Vabbè, ragazzi, batto questi qua e arrivo, batto questi centauri Ma quindi tu, aspetta Stai sfidando i tizi lì? Sì, ma adesso ho stoppato, perché sennò ci metto troppo Ma io invece ho ripreso l'elmo Wow Oh, ti giuro, c'erano questi qua Che tipo, facevano dei salti di quattro blocchi con la bici Cos'è? Mai visto sta cosa? Tipo io l'altra volta Tipo Minecraft, cioè Boh No, non li voglio sfidare i centauri No, no, non mi prendere Ok, perfetto No, sfida, ti danno un bordello di esperienza Perché hanno i Grimery Coffin che ti riempiono di esperienza Allora, perfetto, c'ho Venonat con Confucius Guarda, adesso mi da 42 fps Boh Mai visto Così proprio Ok, restoppiamo Tipo this is fucking gold Beh, lui devo riprendere perché lui è fottutamente intelligente Mi ha fatto quattro volte consecutive E poi sa un gas che non ha effetto Oviente Oviente Perché? Boh Perché mi ha fatto tipo Mi ha fatto confusione E oviente Ho confuso oviente con la mia mosso Oviente Clementy Ok, questo è fatto È fatto È un fattone Diamo Perché tu sei fermo così? Aspetta Qua dobbiamo andare nell'underground Underground Ok, io abbatto sto centauri Io abbatto sto vecchio qua vicino all'underground Perché non ho Questi qua non tutti fa come di tipo fuoco Cono Growlite Che sono easy da battere per Onyx Quindi Faccio Rockfro Gli sotterro Lui lotta con i piselli di roccia Porca troia Come la Poliwock? Stronzo mi hai No, questa Questa me la bagge Due secondi fa Questi qui sono facili perché hanno tutti Growlite Stronzo mi hai tradito Mi hai letto nel pensiero Poliwock è quello di Poké Slender Ah, ma sei qua, eh? Ti vuoi vendicare, piccolo infame Che mi hai stuprato 19 volte, cazzo Non riuscirò mai a finire quel gioco Alcuno Dai, fammi il nuovo Poison Gas No, no, sludge Merda Per di più, quella volta avevo anche la pesca A me non potevi buttarvi giù Alla seconda ball A stardo Ma a te il livello medio della tua squadra Qual è? 28, 27, 24, 18 Eh, minchie Are you surprised? Vabbè, noi adesso battiamo questi altri allenatori che arrestano Prendiamo il tè E poi andiamo alla prossima città No, la prossima città è Zurropoli Perché per battere Sabrina devi far tutta la SIF E poi devi fare prima il rifugio archite La spettrosonda E poi E poi E poi tutta la torre di Londonia Quindi io aspetterò ad andare a Zafranopoli Che non serve un cazzo adesso Quanto mi toglie Sonic Boom? Figa E vai, inizio tranquillo Se ne sto proseguendo nell'Underground Path Ehi, ciao Sì, ma come si corre lento, cazzo Non mi fai Sonic Boom? Non mi fai... Bravo, fai Savage Cosa stai? È una staffetta infinita questa Grande Venonat Ma eccomi Che è un Pokemon inutile finché non si evolverà E eccoci qua Io non mi ricordo il superi Pokemon lì Wiki Ok, io ho ripreso, bro Sto mondo, la città Ok, sì, tu vai Allora Voglio vedere un attimo Electabuzz È forte o no? Perché se è forte me lo vendo io No, Electabuzz mi sa che è più forte Mi sa che è un po' scarso È la velocità più che altro Però Terza generazione Però se non sbaglio Tu hai molti attaccanti speciali in squadra Solo Onix e fisico se non sbaglio Poi più che altro fa vedere le mostre che vuoi imparare però Ehm Ok Imparato uno al 58 Quindi si va a fare al 58 alla Lega È impossibile avercelo Lola Cioè Arrivo all'ultimo A Garycord che ce l'avrò al 58 ma Vabbè però impara a full E però mi serve Tuono Qua Allora Stiamo discutendo sul prossimo Pokemon da prendere Io ho scelto che sarà Electabuzz Sì bro Io ho scelto Eevee e quindi Jolten Adesso lo andremo a prendere Eevee A me mi serve proprio un po' come un d'acqua E lo prendi Vaporeon Prendi Vaporeon No l'ho già preso in Creepy Red L'ho appena preso Ah Lel Boh Vieni qua il te qua Beh se ne trovano tanti potresti Beh io prendo Geridos Non l'ho mai portato fino alla Lega Questa tizia dal tè Sì sì dal tè questo qua Perfetto Obtenete Ok adesso seguimi che ne va a prenderci No tanto te Aspetta mi andare a prendere prima Eevee A me non stai dai ti accompagno Vabbè prendilo tanto Prendilo così Ma non mi serve tanto Cosa lo prendo fa No giù giù È nascosto sto posto È un bonus Vieni Ci sai Sì sì sto scendo Beh io direi di andare a prendere Eevee E questo poi è la parte Che siamo a 11 minuti Più o meno Cioè alla fine abbiamo fatto un po' di roba Abbiamo battuto Gary E siamo arrivati nella nuova città Sì No non fa stronzate È ipercamo Tipo? No stai seguendo Stai lasciando Sì sì Perché? Ok pensavo che non si fosse più uscire da lì Oddio Vieni su Che cazzo fa? Oh scale bagate Ma che cazzo? Ah perché ti Eh ok Eh è un casino Ma son bagate No perché noi premiamo troppo il testo Ok Ce l'ho fatta Ce l'abbiamo fatta Porco Dio Scalimonelle Ok questa tizia è andata appena a prendere il suo Eevee Adesso lo prenderemo anche noi Eccoli Non parlo con te Grazie per le Eevee Ah io l'ho appena anche È il 25 se non sbaglio Perfetto Sì sì anche Anche c'ha È un bel livello Però è una natura di merda ovviamente Che natura c'ha? Qui Eta Cioè aumenta l'attacco speciale Che è ottimo Dovevi prendere quello con la velocità Sì sì aumenta l'attacco speciale per Jolton E il che è ottimo però gli diminuisce la velocità No è quella la Essenziale perché i pokemon lì che c'hanno Allora lei sono tutti lenti quindi avevi un vantaggio Vabbè ma fidati che Jolton Pure con la velocità diminuita È parecchio parecchio veloce Dai Vieni qua vieni qua siamo qua che è tranquillo No aspetta aspetta vorrei comprare un secondo la pietra Allora io ho stop un atom nel frattempo Ok Ok quindi prendo le Allora l'Ectabuzz Sì per forza mi prendo Perché almeno puoi imparare tipo geloraggio Con le mosse lì Aspetta no No perché mi serve un po' come che resista L'Aerodactyl più che altro Beh l'Aerodactyl lo resiste l'Ectabuzz Cioè No perché ha terremoto E forza antica Forza antica mi Se prendo Cosmo me lo butto Allora se usa Ectabuzz me lo butto giù Perché sai che ha un attacco che fa paura L'Aerodactyl Uno Ok signori sto per comprare la Thunderstone Poi ho bro a forza antica che mi butta giù Subito Gheridos Sono pensato a prendermi Dugong Ma me lo butto giù subito Perché la roccia superifica sul ghiaccio Quindi l'unica scelta È Prendersi Seeking Che Uh è figo Si è figo Si è figo Oh aspetta bro che questo è un momento epico perché sto per far evolvere Ivi Andiamo un attimo Si io devo andare a vedere le cose di Seeking Mamma mia eccolo qui Già al 25 Quanto è bello Solo che ovviamente ha delle Che schifo di Eve Vabbè in segnali non da shock scusa Che schifo di Eve E infatti Allora Si vuole al 33 quindi neanche tanto io lo trovo al 25 golden Mi ero su fuoco Terzi isola Ah no la zona sa fa Sono preso un colpo Ah ma questa è già direttamente Seeking Ecco perché allora Fammi vedere un attimo Eh io tolgo send attack Perfetto dai Si però ha 12-17 come punteggio eh Ah ma di alpoc Non vaffanculo Ecco qui ragazzi Quindi Anche per questo episodio È tutto È tutto dai Abbiamo Io dico scusso Già dico una cosa veloce Che ho già scelto i miei membri Ovvero saranno Electabuzz e Seeking Gli ultimi due E niente Io invece ho preso Giorton E come ultimo non sono ancora Non so ancora chi prendere E poi vabbè vedremo Comunque in questa parte abbiamo fatto abbastanza cose Abbiamo battuto gay Eri Eri Ha allenato Niglet Ha allenato un serpentone di sasso Io ho tenuto Giorton che sarà il quinto membro E quindi possiamo anche staccare qua Quindi come sempre commentate Votate Ed iscrivetevi Un saluto dal vostro Bynet E Metacross Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti